Un libro che ha fatto la storia della magia, un libro che ogni prestigiatore deve avere nella sua biblioteca magica, Magia delle carte, di Carlo Rossetti. Scritto nel 1935, questo libro è stato definito dallo stesso Rossetti come un trattato completo della prestigiazione con le carte, sia per dilettanti che per professionisti dell'arte magica. Io stesso consiglio questo libro a chi si sta affacciando nel mondo della magia per la prima volta. Nonostante sia scritto in italiano antico, che non rende semplice la comprensione verbale, lo ritengo un ottimo libro per imparare le basi della prestigiatazione. Il libro è ben fatto in molti punti, minuziosamente descritto, sostenuto anche da qualche illustrazione old style, schemi precisi, cenni storici e descrizioni accurate. Ottimo per imparare sia giochi da carte da tavolo, close up, sia giochi da carte da sala, stand up. Un libro particolare per imparare le basi della prestigiatazione. Forse non per tutti. Spiega il vero concetto di magia e la sua storia. L'arte della cartomagia inizia da questo testo. Se vuoi acquistare Magia delle carte di Carlo Rossetti, trovi il link in descrizione. Io ti ringrazio di aver visto questo video e ti do appuntamento alla prossima video recensione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.